Posso registrare? Ciao, io sono Niin e lei è Precio Io sono andata in America la scorsa settimana e ho comprato un po' di cose Cibo Quindi adesso faremo un Italian Strike Korean and American Snacks Vediamo che asci Tutti gli italiani provano snack coreani e americani Da cosa iniziamo? Dividiamo Corea America? Ma no, fai a caso Iniziamo con queste Sono tipo dei Dixie, penso Al caramello dello sciroppo d'acido Il caramello d'acero Beh sciroppo d'acero Vediamo Sì, si apre da qua così Odora di dolce Non mi piace Oddio ma che cos'è? È un mostro È gigantesco È un odore per niente promettente A Reno Lord Il ciubo del gatto Ah Oh Oddio Non è la cosa peggio che ho provato nella mia vita No È accettabile Quanti il Roman Jungkook da... gli dai? C'è una scala da 1 a? Da... Queer Bulletproof Non ho capito Quanto gli dai? Da 1 a 10 Per me sono tipo... 5 Eh 5 e 6 Non sono orrendi Però Però non sono nemmeno buoni Questo è coreano Sono le Honey Butter Chip Asti L'apertura è poco... Oddio Oddio Madonna C'è non so se sta... Io le ho già stagiate queste cose Non so che mi fanno cagare Vai Però sai Io le ho presa perché Non so se tu hai mai sentito parlare C'è c'è stato un momento Oddio ma Pare è in bagno schimola C'è stato un momento In cui queste patatine Erano tipo L'ilt massimo del mondo Cioè che tutti le volevano Ti piace? Il mio corpo si è rifiutato Ma questo Ti vuoi scendermi la paletta No Oh Queste sono le patatine d'alga Nel senso Che capo ho fatto? Oh Stanno nel porto proprio Ti prego No mamma Arrivano Un'annanicella Certo giuro Odorò troppo di morte e distruzione Mamma Un po' di pesce marcia Un po' di pesce marcia Qua è di alga sa Sa di fish cake Sa di unigiri andato a male No però non è male Cioè Ma secondo lo Dove fa che inizio Le vuoi? Te le regalo? A me fanno fregare Ti piacciono? No Quanto gli dai da Quanti i lemon junk cook sono? Sai Fleming hot cheetos Come fleming hot? Si Poi lo piacciono Al limone Ah Non hanno odore Però sai che cosa mi... Sono bellissimi Cioè Sono il mio postere dei GOT7 Non sono brutte Sono buone E il piccante non è nemmeno così Insopportabile Per me Sono buone Cioè Per me sono le più buone Fra tutte quelle che abbiamo mangiato Si per me Anche se questo è del mio cuore Ma portatele Te le regalo Falle sparire dalla mia vita Ho messo tutto l'erbatore del treno Così E me la lasciano posto Vado in giro Popcorn Al cheddar Che se ne vuole Che se ne vuole Se si mette le giro E questo è il mio cuore E questo è il mio cuore E questo è il mio cuore Buon E' finito Sto guardando che ti sto giudicando Sark patch Kid extreme Questo dovrebbe essere Soft and chewy candy Per cazzo si apre Questi dovrebbero essere asperi No dovrebbero essere di Di merda No Che colore vuoi Rosso Ma dovrebbero essere i bambini Sono questi i bambini Questa è falsa pubblicità Allora Vi pare? Vabbè Guarda Questi sono i capelli No La bocca era meglio non male Deludenti Cioè Sono buone Però io le ho prese proprio perché c'è scritto Extreme Ho detto Cazzo Adesso vado e muoio E invece non siamo a morte Purtroppo Le Ognuno scappa Sono Hanno dentro il Come si chiama? Il peanut butter Il burro da ratini Puoi mangiarle? Sì Vedi mio Quanto posso andare Il burro da ratini Allora Queste li avrai Questa ansia Magno Scoglietto Madonna Tronotis La prima canzone che ho tronotto Dove si aprono? Dove si aprono? Non ho le forbici Sono Allo zucchero filato Oddio è bellissimo Estetic Oddio ma viene rumorissimo Cioccolato Che cazzo sono gli s'mores? Che cazzo sono gli s'mores? Te l'ho spiegato ieri Noi Un po' Che non questi? È dolcissimo Madonna Poi c'è questo Fluffy And nutty And crunchy Con nocciola Con nocciola Penso eh Ok I see you Non è male Se boffa E' l'ultimo L'ultima cosa che abbiamo da provare Chocolate Hershey's Al cookies and cream Oh è bellissimo Guarda C'è scritto C'è scritto C'è scritto questo Te l'ha a fuoco Facciamo finta che è il sanguisse Non mi sa di niente Non l'ho capito Se li pongo Qual è stata la cosa che ti è piaciuta di più? Questa Mmm Non ho pensato questi Questi Il peppero e le caramelle E' stato bello esplorare questi Sapori Anguini E Quei gughini Tutti assieme Mi sono divertita Non li ho comprati Disse Mangiandosene Sono proprio da pezzo marzo Ma mi fa scassare Certo Le dissi Però continuiamo E' un po' come BTS Va bene amici Noi vi salutiamo E ci vediamo al prossimo video Della BXTV Certo 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 Climbi Di Certo